Come ti chiami? Evelyn. Soprannome? Eve. Professione? Studentessa. Tre aggettivi per definirti? Introversa, emotiva e selettiva. Quando hai iniziato a giocare a pallavolo? All'età di nove anni. Il tuo fondamentale più forte è quello più debole? Il più forte è l'attacco e il più debole è il palleggio. Mare o montagna? Montagna. Se vincessi 10 milioni di euro cosa compreresti come prima cosa? Una casa. Una cosa che ti rende felice? Le persone a cui voglio bene. Dimmi una frase in dialetto? Ancoyle a fretta. Piatto preferito? La pizza. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Incontrare gli amici. Qual è il tuo animale preferito? Il koala. Da 1 a 10 quanto contano per te? I tuoi compagni di squadra? 7. Amici? 10. Soldi? 8. Saluta i fan. Ciao!